Musica Visita nelle chiese e nelle scuole danneggiate dalla scossa del 6 ottobre ai piedi dell'Etna da parte del vice premier Di Maio che annuncia i soldi ci sono. Musica Al via una raccolta di firme dei genitori della media Sturzo di Biancavilla per chiedere la frequenza di mattina. Si chiede fra l'altro la riapertura della vecchia Bruno. Visita oggi ad Adrano presso il liceo Verga del rettore dell'Università di Catania Francesco Basile nell'ambito della giornata di orientamento universitario. Il terremoto non ferma le attività religiose all'Idra di Biancavilla. Inizia domani la catechesi per giovani e adulti. Buonasera cari amici di Ivi24 Notizie, il Tg di Ivi TV. Apriamo subito con la visita del vice premier Di Maio nello scorso fine settimana, in particolare sabato, nei centri colpiti dal terremoto. In seguito poi è andato anche in visita nei centri colpiti dall'alluvione. Il primo dei nostri servizi filmati. Un vero e proprio tour de force, quello a cui si è sottoposto sabato scorso il vice premier e ministro del lavoro Luigi Di Maio, che in mattinata ha visitato i luoghi colpiti dalla scossa di terremoto del 6 ottobre. L'inizio da paternò, accolto dal sindaco Nino Naso, dove ha visitato la collina storica. Poi Ragalna, dove è stata in visita la chiesa della Madonna del Carmelo, Santa Maria dell'Icoddia, al comune e a Palazzo Ardizione, Biancavilla, scuola Marconi e Adrano, dove ha passeggiato insieme al sindaco Angelo Degate, dal monastero di Santa Lucia, dove ha visitato la scuola Verga, sino alla chiesa madre. Di Maio rimasto incantato dall'impatto architettonico del centro storico Adranita. Il vice presidente del consiglio ha assicurato che i soldi per la ricostruzione ci sono. Bisognerà adesso mettersi al lavoro per quantificare il danno. Siamo qui stamattina sia per fare visita ai sindaci e ai cittadini dei comuni colpiti dal terremoto, sia più tardi per far visita ai sindaci e ai cittadini dei comuni colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi. I tempi devono essere veloci. Ringrazio la presenza della Protezione Civile Nazionale, perché questi sono giorni in cui quantificheremo in maniera dettagliata i danni. Ed è chiaro che si parte da scuole, si parte dagli edifici fondamentali per la comunità e si portano avanti tutte quelle iniziative che servono a risarcire, a ricostruire e a ridare agibilità agli edifici. Poi, nella legge di bilancio, ci sono 5 miliardi di euro per gli investimenti, tra cui anche quelli che riguardano le ristrutturazioni antisismiche. Quindi la messa a norma degli edifici, che un po' alla volta dovremo rimettere a posto, in modo tale che terremoti di queste entità non debbano più danneggiare soprattutto gli edifici pubblici e le scuole dei nostri figli. Quindi la nostra presenza qui è per dire che non solo siamo vicini a queste comunità, ma risolveremo il prima possibile i loro problemi legati soprattutto all'inagibilità di alcuni edifici pubblici, tra cui le scuole, ma tra cui alcuni municipi e l'edilizia privata, su quella bisogna fare una stima dettagliata e lavoreremo giorno e notte, questo lo assicuro a tutti i cittadini, per ritornare alla normalità. Dopo la visita dei funzionari della Protezione Civile Nazionale, anche la chiesa madre di Adrano è stata chiusa al culto per garantire una maggiore sicurezza dei fedeli che potranno continuare a seguire le funzioni religiose presso la chiesa di Santa Chiara. Insieme alla matrice, a causa del terremoto, il sindaco Angelo Dagate ha proceduto con la firma delle ordinanze di chiusura per San Pietro, Madonna della Catena, Spirito Santo e San Francesco. Sono stati sbarrati anche i locali del comune di Adrano, di Vico Cisterna e di alcune stanze del comprensivo Bascetta. Incluse nella lista anche tre abitazioni private danneggiate dal sisma. E nel corso della visita di sabato, il presidente di CNA Professioni, Enzo Maccarrone, ha consegnato a Di Maio un documento sulla sua categoria di riferimento e in particolare sulla pace fiscale. Sentiamo dallo stesso Maccarrone cosa chiedono le professioni al governo. Enzo Maccarrone, presidente del CNA Professioni Catania, stamattina approfittando della visita del Vice Premier Di Maio, ha consegnato una lettera per quanto riguarda la categoria. Di cosa si tratta? Si tratta del provvedimento che riguarda la cosiddetta pace fiscale. Come CNA abbiamo presentato questo documento perché nell'assemblea di settimana scorsa, a cui era già presenta la deputazione del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto notare alcune incongruenze che ci sono in questa cosiddetta rottamazione TER, perché purtroppo non tiene conto di coloro i quali hanno aderito alla rottamazione BIS, le cui scadenze sono 31 ottobre, 30 novembre e febbraio prossimo, nel quale si dovrà pagare l'80% in due mesi. Noi riteniamo che sia più giusto sospendere gli effetti di questa rottamazione BIS e fare in modo che chi ha aderito a quella possa aderire alla rottamazione TER, anche perché in questa nuova proposta di legge si parla di uno straccio totale delle cartelle fino a 1.000 euro fino al 2010 che verranno del tutto cancellate. Quindi ci sembra una grossa ingiustizia nei confronti di chi ha già manifestato l'intenzione di pagare e che oggi si trova a dover magari andarsi a prestare i soldi per far fronte a questi debiti. Dopodiché abbiamo presentato un'altra proposta che riguarda la pace fiscale, dove si dice anche lì di stracciare i debiti scritti a ruolo. Noi riteniamo che bisogna intervenire non solo sui debiti scritti a ruolo, ma anche su quei debiti che le imprese hanno contratto e che ancora le cartelle settoriali non sono state formate. In quel caso questi debiti rimarranno fuori da questa pace fiscale e invece riteniamo che se si vuole veramente parlare di pace e di chiudere col passato bisogna fare in modo che anche questi soggetti possano pagare con una dilazione ragionevole e soprattutto senza il grosso peso delle sanzioni e degli interessi. Di Maio attenzionerà questa proposta? Sicuramente sì, è chiaro che abbiamo parlato con gli più stetti collaboratori, abbiamo consegnato anche al nostro deputato di riferimento, che è il deputato Saitta, non sto intendo di questo collegio, non che io sia del Movimento 5 Stelle, ma quando c'è una persona che viene eletta in un territorio, è giusto che tenga conto di quelle che sono le stanze del territorio e noi ci rivolgiamo a loro proprio perché facciano il proprio dovere. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha consegnato sabato mattina al vicepremier Di Maio una richiesta per salvare la città dal dissesto finanziario che incombe in maniera sempre maggiore sul comune. La missiva, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e ai due vicepremier, mira a chiedere al Governo nazionale la concessione di un contributo economico straordinario e urgente per il comune di Catania, a gravare sulle casse comunali anche l'assenza di liquidità che già da oggi non ha permesso il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali. E tra coloro che hanno consegnato una lettera al vicepremier anche il vigile del fuoco sindacalista dell'USB, Carmelo Barbagallo. Sentiamo per chiedere cosa. Durante la visita di sabato scorso del vicepremier Luigi Di Maio nei territori etnei colpiti dal terremoto del 6 ottobre, anche Carmelo Barbagallo, sindacalista catanese dell'USB Vigili del Fuoco ha voluto consegnare una missiva al Ministro attraverso la quale ha esposto i problemi dei soccorritori catanesi. La missiva da parte dei Vigili del Fuoco siciliani ma etnei soprattutto. Oggi la visita del Ministro del Lavoro. Ormai come di consueto tutti vengono a visitare il nostro territorio colpito da calamità naturale. Noi vogliamo sapere se queste visite sono soltanto un visite di piacere o se veramente hanno intenzione di far ripartire la Sicilia. Soprattutto i Vigili del Fuoco, che soffrono una grossa carenza di organi, che soffrono una grossa carenza di economie strutturali e di mezzi. Noi chiediamo al Ministro del Lavoro di stabilizzare i precari, di assumere gli idoni e i concorsi che potrebbero dare nuova linfa ai Vigili del Fuoco. I precari si stanno preparando, vogliono essere messi alla prova e da lì vedere chi effettivamente può fare l'operativo, può essere messo in altre mansioni. Noi chiediamo un forte intervento. Diciamo basta alle visite di piacere, vogliamo vedere i fatti. A breve sarà la volta del sottosegretario degli interni, Cantiani, che verrà a visitare nuovamente Catania. Verrà a visitare per la questione del distesto finanziario del Comune di Catania. Però noi gli manderemo una missiva anche a lui, perché vogliamo che Catania venga rispettata come città metropolitana anche per il soccorso tecnico-urgente. Vogliamo risposte certe per le assunzioni, per i mezzi e per il rilancio del soccorso tecnico-urgente. I carabinieri della compagnia di Paternò nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno arrestato un trentenne paternese in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania, condannato per furto aggravato commesso a Catania nel 2016. Durante i controlli sono stati inoltre denunciati un 45enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 67enne, un 52enne e un 29enne per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura preventiva e una donna di 79 anni per omessa denuncia di un'arma appartenuta al marito defunto. Segnalata all'autorità prefettizia anche un ventenne perché trovati in possesso di sei dosi di marijuana detenute per uso personale. Durante i controlli sono stati sottoposti a controllo 45 persone e 33 veicoli di cui tre sottoposti a fermo amministrativo ed elevate contravvenzioni al codice della strada per oltre 8 mila euro. Il personale del commissariato di polizia di Adrano ha arrestato il pregiudicato biancavillese Davide Sant'Angelo di 28 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per l'espiazione della pena di 5 anni, un mese e 5 giorni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto appartenente al clan toscano Mazzaglia Tomasello. L'uomo era stato arrestato l'11 ottobre del 2014 nell'ambito dell'operazione Garden insieme ad altre 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di reati in materia di armi ed estorsioni. Al via, questa mattina a Biancavilla alle elezioni per i consigli di classe della scuola secondaria di primo grado Sturzo una raccolta di firme che verrà presentata all'amministrazione comunale nella quale si chiede il ripristino delle elezioni mattutine in locali già individuati. Sentiamo. Cresciuta ed alimentatasi nelle chat scolastiche, la rabbia della scuola Sturzo di Biancavilla costretta ai doppi turni a causa dei danni subiti nel terremoto, esplosa oggi in una raccolta firme nella quale i genitori chiedono sostanzialmente la frequenza mattutina per i propri figli. Nella petizione si chiedono sostanzialmente quattro cose per riprendere le elezioni al mattino. La riapertura della vecchia scuola Bruno, convento francescano, installazione di prefabbricati per l'edilizia scolastica di protezione civile o dei moduli celva, utilizzo delle aule vuote nei vari istituti scolastici e alternanza mattina-pomeriggio con gli studenti parigrado della Bruno. Al nostro microfono, grazie a Ventura, in rappresentanza dei genitori. Invitiamo l'amministrazione a rivedere la soluzione adottata a seguito del sisma, cioè riaprire o la vecchia scuola Antonio Bruno, o comunque collocare i ragazzi presso istituti che hanno la disponibilità di aule, in maniera tale da ritornare agli orari scolastici mattutini, perché le conseguenze sappiamo sono tante, sia da un punto di vista pratico per le famiglie che hanno i genitori che lavorano, abbiamo i ragazzi che rimangono a casa da soli la mattina con tutte le conseguenze del caso, possono non fare i compiti, insomma devono occuparsi di se stessi loro per poter andare a scuola. Oltre al discorso che ciascuno dei nostri figli fanno anche attività, dico è in secondo piano il discorso dell'attività extrascolastica perché nessuno muore se non fa attività extrascolastica, ma è anche bello che è una microeconomia che noi stiamo facendo morire. Tutte le altre scuole che hanno subito i danni dal sisma stanno facendo i doppi turni con le scuole agibili. Ci sembra corretto per un discorso di equità, perché i nostri figli non sono bambini di serie B che facciano i turni nell'attuale Antonio Bruno, perché non è corretto che i nostri vengono considerati come degli ospiti. La scuola è pubblica, il diritto allo studio è di tutti e non ci può essere il ragazzino di serie A con quello di serie B. Nel caso in cui queste richieste non venissero accolte, cosa siete disposti a fare? Le famiglie mi hanno anche invitato, qualora fosse necessario, di intervenire privatamente e vedere quali sono questi danni, del perché non sono riparati, poi alla fine andremo avanti. Per certo il gruppo MAM non si fermerà, cioè noi entro l'anno nuovo se è possibile vorremmo entrare a scuola, se non è possibile troviamo una di queste soluzioni proposte, ma noi a gennaio pretendiamo di rientrare a scuola. Incidente sulla bici a mezzogiorno di ieri nell'area del Parco dell'Etna in territorio di Adrano, sul sentiero che da Prato a Fiorito raggiunge Monte Intraleo nei pressi del rifugio Casa Zampini. Protagonista un ciclista adranita di 25 anni, secondo quanto ricostruito il biker che procedeva in gruppo sarebbe caduto a causa di un ostacolo sulla pista ferendosi all'addome con il manubrio. Gli altri ciclisti spaventati per il colpo subito dal compagno hanno chiesto immediatamente i soccorsi che sono giunti grazie alla sinergia fra i vigili del fuoco di maletto, corpo forestale 118. Sono state le jeep a condurre i soccorritori sino al ferito e a condurre questi sino all'ambulanza che attendeva piano dei grilli a Bronte, poi la corsa sino all'elipista brontese e il trasferimento al Cannizzaro di Catania in elisoccorso. Il referto medico del Trauma Center del Cannizzaro ha evidenziato per fortuna solo contusioni per il ciclista. Si è svolta questa mattina al Liceo Verga di Adrano una giornata di orientamento universitario promossa dal Preside Enzo Spinella, presente anche il Rettore dell'Università di Catania, Professore Francesco Basile. Per noi c'era Maria Grazia Castro. Si è svolta questa mattina presso l'Auditorium dell'Istituto Verga di Adrano una giornata dedicata interamente all'orientamento universitario per facilitare l'acquisizione da parte degli studenti del Liceo delle informazioni utili per meglio scegliere la facoltà da frequentare una volta concluso il percorso scolastico della scuola superiore di secondo grado. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Enzo Spinella che ha accolto e presentato agli studenti il Rettore dell'Università di Catania, Francesco Basile. Le abbiamo sentiti ai nostri microfoni. I ragazzi ormai con tutti i mezzi informati ci sono abbastanza al passo con quella che è la possibilità di istruzione e di formazione. Quindi si tratta di fare capire a ognuno di loro qual è la loro predisposizione migliore. E quindi dobbiamo offrire uno spettro in vari settori dal giuridico economico allo scientifico, dal linguistico al matematico in maniera da poter far sì che i ragazzi possano capire quale potrà essere la loro occupazione futura e quindi aiutarli a formarsi secondo quello che loro sceglieranno. Noi possiamo tenere diversi corsi a parte che su progetti già finanziati dall'Unione Europea e quindi terremo dei corsi di lezioni che potranno essere anche poi utilizzati come crediti a livello universitario. E poi terremo il corso di formazione per medicina e le professioni sanitarie come già era avvenuto negli anni precedenti e lo terremo proprio presso il loro liceo, presso il liceo di Adrano in maniera da facilitare la possibilità di frequenza ai ragazzi del liceo. Frequentano dei percorsi di orientamento in uscita che valorizzano quelle che sono le loro attitudini, le loro aspettative e non che le loro capacità. Grazie all'Università cerchiamo di ricercare nuove identità, nuove verità, chiamiamole così, creando quella che in osmosi tra loro e noi, loro che indiscettano in noi quelli che sono i bisogni formativi e loro che curvano la loro offerta formativa su quelli che sono i bisogni dei nostri studenti. In occasione del quarto anniversario dell'omicidio di Veronica Valenti, vittima di femminicidio, venerdì scorso 26 ottobre l'associazione belpassese Antiviolenza for Life, della quale presidente Giuseppe Valenti, padre di Veronica, ha promosso un'iniziativa presso il giardino Martoglio di Belpasso consistente nell'installazione di una cassetta rossa delle lettere per rendere più semplice la denuncia di tanti abusi. Due anni fa, sotto l'amministrazione Caputo, era stata dipinta una delle panchine della villa belpassese di Rosso alla presenza delle scuole, per ricordare Veronica e sensibilizzare i cittadini su questo crimine che sta sconvolgendo l'Italia dalle Alpi alla Sicilia. Dichiara Patrizia Moschetto dell'associazione for Life, ci sarà qualcuno che giornalmente aprirà la cassetta per vedere se ci sono messaggi firmati o anonimi, numeri di telefono, una riflessione, un suggerimento o qualsiasi altra cosa che possa aiutare a porre rimedio, ad aiutare le donne a denunciare i violenti. È un modo alternativo per rompere il ghiaccio perché dal volta non si ha il coraggio di venire al centro antiviolenza a denunciare. Presente all'inaugurazione anche il sindaco Daniele Motta e il vice sindaco Tony Di Mauro. E sono state oltre 20.000 le presenze registrate a Belpasso durante i tre giorni dedicati alla Sagra del Fico d'India che hanno premiato le bontà del frutto DOP dell'Etna. Un successo e un gradimento da parte del pubblico che conferma come questa formula sia azzeccata, ha commentato il sindaco Daniele Motta. L'intenzione dell'amministrazione è quella di riproporre l'evento come appuntamento fisso e immancabile per la comunità belpassese. Durante la Sagra si sono ottenute degustazioni guidate, talk show cooking, recital di canti popolari e presentazioni di libri. Non sono mancati nemmeno i momenti dedicati alla cultura, allo sport, con la scoperta dei musei cittadini, le esibizioni degli sbandieratori, estemporanee di pittura, sfilate di moda e tornei sportivi. Nonostante il terremoto abbia rallentato le attività religiose all'interno della chiesa dell'Idria Biancavilla, il parroco Salvatore Nicoletti con le comunità neocatecomenali procedono la loro missione evangelizzatrice sul territorio parrocchiale. Da domani al via la catechesi per giovani e adulti. Sentiamo il servizio di Luca Crispi. Prenderanno il via domani alle 19.30 all'interno del salone parrocchiale della chiesa Santa Maria dell'Idria di Biancavilla per 15 incontri serali nei giorni di martedì e venerdì, le catechesi per giovani e adulti promosse dal parroco Salvatore Nicoletti e dalle comunità neocatecomenali, che ormai da un quarantennio portano avanti sul territorio questa nuova forma di evangelizzazione. Il percorso di fede è nato in Spagna negli anni Sessanta su ispirazione della Madonna a Chico Arguello, a cui si affiancò poi Carmen Hernández e padre Mario Pezzi. Un cammino appoggiato sin dalla sua nascita dai grandi papi come Paolo VI, Giovanni Paolo II, oggi Santi, Benedetto XVI e Papa Francesco. Quest'ultimo, proprio nello scorso mese di maggio, ha festeggiato insieme a migliaia di fedeli a Tor Vergata i 50 anni di questa iniziazione cristiana post-battesimale, esortando il cammino a proseguire nell'impegno per l'evangelizzazione. L'invito a partecipare a questo percorso catechetico è rivolto a giovani e adulti di ogni età, siano essi già inseriti all'interno della parrocchia o appartenenti ai cosiddetti lontani che vorrebbero approfondire o riscoprire la propria fede. Chi è Dio per te? Chi sei tu? Perché vivi? E cos'è la Chiesa? Sono solo alcuni degli interrogativi a cui il percorso proposto dal cammino neocatecumenale cercherà di dare delle risposte concrete. Per le coppie con figli sarà offerto anche un servizio di babysitter gratuito. E siamo al calcio. Domenica da dimenticare per il Paternò nel girone B di eccellenza. L'undici rossa-azzurri infatti patisce una sconfitta interna. Il Sampio esce dal Falcone Borsellino con l'intera posta. E il Paternò è costretto anche a cedere la testa della classifica. Turno di riposo invece per il Biancavilla. Sentiamo. Battuta d'arresto casalinga per mano della Sampio decimo per il Paternò che nell'ottava giornata del girone B di eccellenza perde un'occasione d'oro per staccare in classifica i cugini biancavillesi che hanno osservato il turno di riposo così come previsto dal calendario ed il Camaro sconfitto a Giarra nell'anticipo del sabato pomeriggio oltre che a rimanere sulla scia del Palazzolo vittorioso sul difficile capo del Milazzo. Al Falcone Borsellino l'undici paternesi inizia a subire sin da subito il pressing ospite. Al sesto minuto arriva l'episodio che sblocca il match e che fisserà in seguito il risultato definitivo. Punizione di Privitera che si imbatte sulla barriera e si spegne in calcio d'angolo ed è proprio dagli sviluppi del successivo corner che Bagi trova la deviazione vincente spezzando l'estremo difensore paternese Caruso. La prima vera reazione del Paternò arriva al diciottesimo quando Raimondi di Testano riesce a finalizzare uno splendido cross d'esterno di Cordaro. La Sampio non molla e tenta il raddoppio in più di un'occasione non riuscendo a sorprendere la retroguardia padrone di casa ma arginando fino alla fine le ripartenze paternesi. Archiviato lo splendido 3-0 casalingo imposto appena sette giorni fa al Motta uno sfortunato Bronte è costretto a cedere 1-0 sul campo dello Sporting Via Grande nell'ottava giornata del girone C di promozione. Al vantaggio dei padroni di casa l'undici ospite trova due traverse entrambe firmate d'Aleanza che per ben due volte su calcio di punizione trova i legni. Amare in bocca anche a causa del calcio di rigore battuto da Sacullo è neutralizzato dall'estremo difensore dello Sporting Via Grande. Sconfitta per l'Adrano Basket in casa della cestistica torrenovese nella quarta giornata di Serie C Silver. Pesante il risultato finale 97-76 per i padroni di casa. Tuttavia nel corso del match il quintetto Adranita ha mostrato buone trame di gara dando filo da torcere per tre quarti. Le armi sono state deposte soltanto nell'ultimo quarto di gara quando la Torre Novese ha allungato decisamente. Mercoledì alle 20 presso la tenso struttura di Adrano i locali se la vedranno con il Gravina per la quinta giornata del campionato di Serie C Silver. Siamo in chiusura vi ricordiamo come sempre che potete rivedere questa edizione di IV24 Notizie su ivtv.com o iv24.it potete contattarci con la mail di redazione redazionechioccioleiv24.it o telefonare allo 095 899 7931 potete seguirci anche sui social che vedete in sovrimpressione. E' tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di IVTV per sentirci. che vedete in sovrimpressione che vedete in sovrimpressione che vedete in sovrimpressione